Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori In primo piano sui principali quotidiani per quanto riguarda la Fiorentina e il ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina Viola La nazione, un sorriso per rialzarsi Inizia tra braccia strette di mano il Montella bis Ieri la riva ai campini in mattinata Poi il saluto con il vice di Pioli L'incontro con la dirigenza e il primo discorso alla squadra La gazzetta dello sport Montella 2 Divertimento Unità e Futuro La mia Fiorentina Il tecnico ha incontrato i giornalisti in sala stampa Per le prime parole da nuovo allenatore Gigliato Ringrazio la società che mi ha dato di nuovo questa possibilità E un attestato di stima e fiducia Va ricostruito l'entusiasmo a partire da chi lavora intorno alla Fiorentina Scelta la Viola per passione Per Fiorentina1.com Beatrice Canzedda Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola